Assessore, questa mattina avete presentato un documento che riguarda il sovraffollamento di pronto soccorso, documento che nelle prossime ore arriverà in giunta. Sarà deliberato tra poche ore questa presa d'atto di un documento importante per quanto riguarda il sovraffollamento di pronto soccorso della nostra regione. È un argomento che abbiamo affrontato nei diversi mesi, affrontato attraverso confronti con i dipartimenti dell'emergenza, con le cure primarie. Arriviamo a questa presa d'atto di questo importante documento che, ripeto, andrà a stabilire non solo quello che è un'analisi, le motivazioni per cui c'è questo sovraffollamento, ma soprattutto delineerà dei protocolli da attuare, sia per i pazienti meno gravi e sia per quelli gravi. È da sottolineare che abbiamo considerato importante anche l'attività da svolgere nell'ambito del territorio, perché molti pazienti devono trovare risposte sul territorio, specialmente per i codici bianchi e verdi, e non arrivare a pronto soccorso. Quindi una complementarietà di una presa in carico del paziente, ma soprattutto attraverso questo atto che l'agenzia ha prodotto, si stabilirà anche il rapporto con il personale, che voi sapete è un elemento importante, anche perché sono carenti gli specialisti in questo campo. Avete spiegato in conferenza stampa che ci saranno delle linee generali, ma poi tutto dipenderà da ogni pronto soccorso. In base ai numeri dei pronto soccorso delle varie ASL ci saranno delle azioni conseguenti? Diciamo che per quello che riguarda il personale abbiamo fatto degli standard di personale che sono parificati alle attività, quindi agli accessi. Chi ha più accessi avrà più personale, chi ha meno accessi avrà meno personale, perché se no ci può essere del personale che lavora relativamente a bassi carichi di lavoro rispetto ad altro personale che ha carichi di lavoro molto alti, quindi si ratti di una ridistribuzione e questo sarà carico delle direzioni di genere delle ASL, perché loro avranno a disposizione tutti i dati dei vari ospedali della loro ASL. E lì, secondo l'attività, secondo gli accessi, disporranno il personale in maniera più opportuna. L'importante è il lavoro in questa fase anche della medicina territoriale e dei medici di base? In questo momento di pandemia è utile per il Covid, perché voi capite che se un asintomatico, un posto sintomatico a pronto soccorso, l'inizio è una raffina lunga ed è difficile di missione, perché bisogna mandarlo e alla fine se è l'asintomatico non mi va a occupare un posto ospedaliero, lo rimandiamo a casa e rimandandolo a casa serviranno delle procedure che dovranno attuare i medici di base, le US che c'era per poterlo monitorare a casa. Il Covid oggi fortunatamente, nonostante questa sua alta virulenza, è un fenomeno più territoriale che ospedaliero, per cui ci sono molti raffreddori, ma le polmondie sono rarissime, perché questa forma pare non dia tante polmondie, magari anche aiutata dai vaccini. Per cui è importante che ognuno faccia il suo lavoro, soprattutto gli utenti siano indirizzati verso il luogo più opportuno di cura. Noi abbiamo il paradosso, per esempio, che spesso vuol dire che nelle malattie infettive abbiamo ricordato il raffreddore solo perché c'è il Covid e l'infezione grave magari sta in un reparto di gente ospedaliere, questo non può più accadere.